6 10 3 2 1 Ah 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 Non volete sapere la cosa bella? Mi stavo mangiando un uovo E la telecamera ha deciso bene di non registrare Ma barbuto non si ferma No abbiamo qua un altro Ringraziamo Bea che è gentilissima Perché io non potevo entrare in casa Ma ha portato tutto lei Questo qua ormai è andato Quindi ce lo schiacciamo in testa Buon day Io sono barbuto Ma non ho la barba Oggi farò 10 penitenze per festeggiare il milione su TikTok Spettacolo Via con la penitenza So che aspettavi questo momento da tanto tanto tempo Devi tirarmi 10 sterile Vai Ci sarei Ah Uno Due Tre No questa valeva No no vale tre Quattro Cinque Uh Sei Cambia guancia Sette Otto Nove Dieci Oh mio dio Che male Sono già tutte le Tutta la faccia rossa Guardate un po' Oddio sto diventando sempre più rosso Dio sto diventando sempre più rosso Tutto quanto Non so neanche più parlare Questo è altro Uno per il milione Spettacolo Ok è arrivato il momento della ceretta Ancora tutte le guance rosse ovviamente Questa è un'altra penitenza Sulle braccia Ovviamente ho le braccia pelosissime Quindi farà un sacco un sacco male Ci siamo L'ho scaldata Penso abbastanza Ragazzi se questo video non fa almeno Dico almeno Sette visualizzazioni Io mi incazzo Io mi incazzo Oh mio dio Non so neanche se l'ho messa dritta Sì ma così farà malissimo Eh lo so Ok vabbè È quello che vogliamo Tre Due Uno Fa malissimo Sembra che c'è un polsino Fare una merenda Con il cibo del mio riccio Ha davvero un'aria appetitosa Per il milione Abbiamo il nostro amato caffè E poi abbiamo il nostro sale Fino adesso pensavo che la cosa più schifosa che ci fosse Fosse appunto il caffè col sale Se non l'avete mai provato ragazzi Provate perché davvero è orribile Vi dà un senso di nausea incredibile Però dopo aver provato il cibo del mio riccio Con il latte Forse mi ricrederò Provarli tutti e due di seguito Uno dopo l'altro Sarà qualcosa di doloroso Per il mio stomaco Vi giuro che quel mangime per ricci Con il latte È stata una roba schifosissima Sono stato malissimo Infatti ho fatto una piccola pausa Prima di riprendere il video Ci siamo Alla salute Per il milione Questo e altro Spettacolo Uno Due Tre Oh mio dio Allora io ora mi venderò Cioè mi venderò Metto questo in testa Tu puoi picchiarmi Con tutti gli oggetti Che hai a disposizione Ah 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 Ok ora faremo una colazione direttamente Ora farò colpire con le palle da baseball Questo video sta degenerando Guarda che mi servono È freddissima Non è finita Oh mio dio Noi ci vediamo al prossimo video Ciao